Buongiorno a tutti, di nuovo a martedì la Serie B che ha terminato ieri con le ultime due partite. Il Brescia batte la Cremonese e si porta assolutamente ai vertici della classifica. Un Brescia che ha vinto una partita difficile contro un avversario difficile. Un Brescia che in questo momento respira aria di alta classifica. Come il Palermo, un Palermo partito male, un Palermo che è partito molto male in questa Serie B. Invece da 5 partite va bene, ieri ha vinto in trasferta, ha vinto sul campo del Sud Tirol. Anche il Palermo come il Brescia respira aria di alta classifica. Questo fa capire, ripeto, l'altissimo livello di questa Serie B, che lo dico dal primo commento che ho fatto. È indubbiamente una Serie B che sta rispecchiando il grandissimo livello e l'altissimo livello che c'è quest'anno. Vi ringrazio sempre per seguirmi, vi invito a cliccare in basso a destra, iscrizione gratuita, e potrete dire liberamente la vostra sullo sport. Ciao!